Ciao a tutti, sono Alessandra e questa è la mia testimonianza ducale. Se la mia faccia vi è familiare è perché magari mi avete visto nel live privata, sono una corsista di vecchissima data, oppure perché avete visto la mia vecchia testimonianza che era con un altro sfondo e avevo un maglione che è passato così tanto dalla vecchia testimonianza che l'ho usurato e ora ci dorme la gatta sopra d'inverno. Però è passato un sacco di tempo e oltre ad usurarsi il mio maglione, e il duca ha aggiunto un sacco di cose fighe nei corsi, un sacco di corsi nuovi o altri dettagli interessanti. E c'è della roba veramente figa, c'è della roba che mi ha aiutato e non mi ha aiutato solo nella scrittura, mi ha aiutato proprio nella vita in generale. Quindi se ve ne parlo è perché veramente per me ha avuto un impatto. Io lo dico tranquillamente, se non fosse stato per il corso del duca e anche per il suo continuo martellare sul studiate le cose di neuroscienza, studiatele come funziona il cervello, studiate come funziona la memoria, studiate questo genere di cose che uno dice ah sì, servono per saper gestire meglio i propri personaggi nella scrittura, per capire cosa magari una persona può immaginarsi quando va tutto male e quindi tende a fare tutti questi che si chiamano pensieri terribilizzanti, cioè tipo oddio, oddio moriremo tutti. Sì è vero, questa roba è utilissima, ma vi può servire nella vita. Se lui non avesse martellato così tanto giustamente su questi argomenti, ad esempio in tutte le sezioni che parla di mentalità, come funziona il cervello, come funziona l'apprendimento eccetera, io forse non avrei ottenuto il risultato che ho ottenuto anni fa quando ho passato un concorso per cambiare lavoro e sono arrivata a dodicesima su diverse migliaia di candidati. E non l'avrei fatto se non ci fosse stato lui a insistere tanto sull'imparare, scusate ci sono delle tubature che fanno rumore oggi, sull'imparare a capire come funziona il cervello, studiare queste cose, approfondire queste cose e questa è solo una minuscola parte delle cose fighe che si possono trarre da questi corsi. Vi faccio l'esempio, una cosa molto bella che ha aumentato negli ultimi contenuti sono tutti questi piccoli processi di test che tu puoi fare per capire se stai andando nella strada giusta. Perché adesso che, cioè pensateci, non stiamo magari più dando esami universitari, magari avete un lavoro, magari avete quello eccetera, ed è a volte frustrante in generale nella vita quando uno sta facendo qualcosa e dice sì, ma io non capisco se sto andando nella direzione giusta. A me capita di continuo ed è una rottura di scatole. Perché magari fai un sacco di lavoro che poi si rivela inutile, magari non per causa tua, magari perché ti cambiano all'ultimo minuto un parametro, per esempio, al lavoro, queste sono cose che succedono. Però effettivamente una soddisfazione che per esempio si poteva avere in ambito studentesco, studendo all'università, poteva essere quella del fare un test, per quanto sia spaventoso l'esame, quando sei sul momento lì, e poi dici, ah cazzo, ma io mi ricordo tutto, ah sì cazzo questa cosa qui, sì perché dopo c'era questo collegamento, perché questo autore aveva pensato questa cosa, è riuscito a fare un buon lavoro e prendete magari anche un buon voto. Queste sono cose che comunque danno soddisfazione. Al di là del voto vi dà soddisfazione il fatto di sapere che siete lì e vi ricordate le cose e le sapete e le potete sfruttare. Non parlo ovviamente di imparare le cose a pappardella perché sì, per passare l'esame, parlo di quando si fa vedere veramente la propria capacità di ragionamento, ovviamente, che comunque quella è importante e tanto vi serve. E a mie esperienze i professori se ne accorgono quando fate un orale, se state ripetendo a pappardella o se avete fatto dei ragionamenti, cioè anche nello scritto in realtà. Quindi, scusate per il giro lungo, però la cosa bella è la possibilità di poter testare le proprie capacità. E questa volta non avete neanche l'ansia della borsa di studio, dell'esame, del voto. Avete tanti piccoli modi per vedere se state andando nella strada giusta. Una cosa, per esempio, di queste c'è nel minicorso Risveglio dello scrittore, che ha fatto, si parla molto in questa sezione delle passioni. Per esempio, le passioni intese come quella cosa che vi aiuta anche a dare da carburante alla scrittura. Perché mettiamo la cosa, se la scrittura effettivamente si può fare questo paragone, la scrittura è come una macchina, ma ci dovete mettere dentro qualcosa per farla andare. Potete avere la macchina più figa, la Ferrari, più ultimo modello, più lucida, più rossa, più cromata del mondo, ma se non ci mettete la benzina, o quello che è, insomma, non va da nessuna parte. E la questione delle passioni, secondo me, come ne parla Luca, arriva esattamente in questa direzione. Perché? Perché ci deve essere qualcosa di cui volete parlare. E non parlo di il grande tema, che sì, ci può essere, ma non parlo di quello. Parlo di qualche argomento, qualche dettaglio, qualcosa che ha suscitato la vostra curiosità. Tipo, nel mio caso, a me piacciono molto certi argomenti legati alla storia della medicina. Per esempio, è una passione che ho scoperto qualche anno fa e ho fatto molte letture al riguardo. Ci sono un sacco di dettagli interessanti che so raccontare. E in questa sezione trovate un sacco di piccoli test che vi aiutano a capire qual è la vostra vera passione. Perché magari ce l'avete e non sapete di averla, tra l'altro, questo è assolutamente probabile. Conosco un sacco di persone che si sottovalutano e dicono, sì, vabbè, ma questo non interessa a nessuno. Oppure, sì, ma tutti, io non ho una vera passione. Allora, magari non ce l'avete una vera passione, può essere, mica dico di no. Ognuno è diverso. Ma magari ce l'avete e vi state sottovalutando. Perché io ho conosciuto diverse persone in questo contesto che magari hanno la libreria piena di certi argomenti e poi dicono, sì, ma io non ho una vera passione. Non è vero, ce l'hai. È solo che magari se uno fa un lavoro che non c'entra niente con la propria passione, eccetera, tendiamo un po' a sottovalutarci, secondo me, in questo senso. Quindi aiuta a trovare qual è la propria passione e anche a invitare a mettersi alla prova. E uno di questi inviti è, per esempio, quello di crearsi una specie di ecosistema da scrittori. Nel mio caso, per esempio, io ho deciso di buttarmi e provare. Ho creato un canale YouTube. Quello che vedete è lo sfondo che normalmente utilizzo per i canali, per i miei video di YouTube. Anzi, dal momento che sto girando questa testimonianza ho appena finito di girare un video per il mio canale. Perché? Perché a me piacciono un sacco le storie della medicina, delle cose legate al folklore, delle cose un po' macabre. Ho detto, vabbè, sapete che vi dico, ho trovato un nome che mi piacesse per il canale. Mi sono buttato. Ho cominciato a fare il canale. Ho decine di migliaia di followers. No, ho superato il centinaio da poco. Quindi non è che posso dire di avere un successo interplanetario. Ma la cosa bella di queste cose, la cosa bella di continuare a farle, è che vi spinge. Un po' come quelle persone che dicono, io non farei mai allenamento se non avessi l'abbonamento della palestra, perché ormai ho pagato. E allora vado in palestra quattro volte a settimana. Il discorso del canale può aiutarvi anche in questo senso. Perché siete spornati. Magari col fatto che abbiamo tutti una vita straimpegnata, un sacco di cose da fare, la casa, magari avete dei figli, magari gli animali, queste cose così. Abbiamo tutti un casino di roba da fare. E tendiamo a sacrificare certe cose. E a volte tendiamo anche a sacrificare le nostre passioni. Avere una cosa come, nel mio caso, per esempio, il canale YouTube mi costringe a non sacrificare questa cosa che io adoro. Perché voglio mantenere almeno un video alla settimana. Cerco di farli in anticipo, però voglio mantenere l'idea di fare un video alla settimana e fare le ricerche per il video successivo e cose di questo tipo. Questo mi costringe, nel senso più bello del termine ovviamente, a trovare sempre nuove cose di cui parlare, a approfondire certi dettagli. E in questo modo magari scopro cose che posso inserire nel romanzo che vorrei scrivere. Scopro questa cosa e dico, ah, vedi, se io non avessi, non lo so, approfondito, nel mio caso mi piace la storia della medicina, quindi se non avessi approfondito la storia di questo famoso chirurgo, magari non avrei mai scoperto questo piccolo dettaglio, magari non è una cosa che ti cambia la vita, ma è un piccolo dettaglio che posso inserire nel romanzo, per esempio. Quindi troverete cose che vi piacciono e poi avrete la soddisfazione di stare facendo qualcosa. Perché? A meno che non siate dimostri della produttività come Manara, che ce n'è uno solo di Manara, con affetto, e non riusciate veramente appunto a raggiungere quel livello lì, e anche se lo riuscite a raggiungere, diciamo che dovreste autopubblicare per avere un continuo flusso di soddisfazioni. Che ci può stare, eh? Mica no. Però non tutti riescono a farlo. Intanto che studiate, intanto che scrivete, intanto che migliorate la vostra scrittura, intanto che magari riuscite a impressionare il duca che vi seleziona, oppure riuscite a trovare un buon editore, anche solo a terminare un romanzo, perché comunque non è una cosa che si fa appunto in modo rapidissimo, a meno che non riusciate a diventare poi dei maestri della produttività, e poi in realtà vi spiega anche come fare quello il duca, ma intanto che fate quello, fate anche, seguite anche la vostra passione, la dovete seguire, perché sì, se no veramente vi trovate a fare soltanto magari il lavoro, magari questo, magari siete dietro un romanzo che non è la cosa giusta, però non avete il coraggio di mollarlo, o magari semplicemente lo state scrivendo, sta andando tutto quanto, bellissima gonfia vele, e lo volete pubblicare in maniera tradizionale, volete l'editore, magari l'avete anche già trovato, volete fare le cose così. Bene, ma le cose su cui voi avete un controllo sono su questo senso limitate, potete anche avere magari il manoscritto pronto e l'editore vi dice ok, questo però esce nel 2026, e intanto voi che fate fino al 2026? Sì, scrivete il prossimo romanzo, magari scrivete dei racconti brevi, ma avere una cosa come, io faccio l'esempio del canale YouTube, perché è il mio caso effettivamente, avere una cosa come un canale YouTube, esprimervi su quello che vi piace, vi permette di avere tante piccole soddisfazioni, e in quel corso c'è tutto su come organizzarsi per avere queste piccole soddisfazioni, e effettivamente io sono contenta di aver cominciato a fare il canale, mi piace, perché anche se magari è un periodo che faccio fatica magari a lavorare al romanzo, perché ho tantissimo lavoro, devo fare straordinari cose di questo tipo, mantengo il canale e dico però almeno quella cosa la sto facendo, e quindi io comunque ve lo consiglio, e io ho fatto l'esempio del canale YouTube, ci sono mille altre cose che potete fare, però lì c'è tutto. Anche come organizzarsi il tempo, ci sono le testimonianze di autori come Lorenzo Manara, appunto che vi dicevo, non so, sembra che riesca a fare veramente il di tutto, e ci sono ore di testimonianze sia sue sia di altri autori che hanno superato altri blocchi, quindi c'è della roba veramente interessante, questa è un'esperienza antiblocco. In generale ci sono un sacco anche di piccoli consigli, anche proprio di vita quotidiana, su come organizzarsi che vi piaceranno, e poi per la parte di test che vi dicevo, che appunto è sempre utile, sempre interessante, c'è un'altra sezione che secondo me veramente è la bomba. A me ha cambiato tantissimo il modo in cui scrivo, leggo, faccio editing, percepisco la scrittura, che è il metodo TRAVE, che è una sigla, scoprirete cosa significano le varie lettere della sigla, poi nel corso, e mi pare che tra l'altro il video di presentazione del metodo, mi pare che fosse su YouTube, adesso non ricordo, però scoprirete poi come funziona mano a mano, ma quello è veramente, a me ha cambiato molto il modo in cui percepisco le stesse storie, nel fare il metodo TRAVE, e applicarlo veramente, non vi posso dire ovviamente tutto quello che consiste, perché se no scusa cosa c'è il corso a fare, però è una cosa che vi costringe a concentrarvi molto sui testi, vi dico solo questo, vi concentrerete molto sui testi che già esistono, e il vostro cervello, il vostro modo di percepire le storie, cambierà, io ho avuto modo di fare un paio di live private, come editor, sono di solito il lunedì sera, se sarete corsisti avanzati, poi ne riceverete il link, le potrete vedere anche voi, e ho avuto modo di rendermi conto quanto questo metodo TRAVE, per me, mi abbia cambiato un sacco la percezione, riuscivo a notare delle cose nei testi, in questo caso erano testi altrui, però riuscivo a notare le cose nei testi, in un modo che non avevo mai fatto prima, addirittura mi trovavo, ho fatto due, sono andate tutte e due, bene, lo dice il Duca, e la cosa bella è la sensazione che all'inizio tu pensi, ah, sono stata fortunata, ah, ho avuto dei testi facili da commentare, ma magari no, magari siete bravi, io spero nel mio caso insomma che sia la bravura, ma in generale vi troverete, dopo aver fatto una cosa come il metodo TRAVE, se riuscite, se si è tanto, se diventate corsisti avanzati, poi potete farle queste cose, provate come editor, perché vi aiuterà un sacco a capire a che punto siete, poi ho intenzione di provare appunto a mandare anche un mio testo, per vedere come sta andando, però la cosa bella, soprattutto su cui voglio porre enfasi in generale, di questi ultimi contenuti aggiunti nel corso, è la possibilità di fare dei controlli, per capire se state andando sulla strada giusta, perché se no, lo capisco, ci si sente veramente così, sparsi, non ci ho fatto il corso, è bello, ok, però, veramente, provate a fare tutte quelle piccole cose che vi suggerisce, il mio consiglio è veramente, prendete il corso, la versione più completa che potete, e buttatevi, provatele, fate il vostro canale YouTube, parlate di quello che vi piace, non importa cosa sia, c'è qualcosa che vi piace di sicuro, fatevi il vostro bello sfondo a tema di quello che vi piace, perché qualcosa che vi piace c'è di sicuro, e buttatevi, perché veramente, a volte, mi rendo conto, che ciò che ci ferma è proprio l'ansia, la capacità, il nostro pensiero dell'oddio, non ne sono in grado, e io lo parlo da persone che hanno molti problemi di ansia, adesso un po' meno rispetto a un tempo, però ne ho avuti, e però vi dico, non vi fate bloccare, buttate, prendete il corso, fate tutto quello che c'è scritto, perché c'è della roba che vi cambierà veramente la vostra percezione della scrittura, della lettura, noterete cose sui testi altrui e vostri che non avrete mai notato prima, magari riprendete un vostro vecchio testo e dite, cazzo, ma io qui avevo fatto un errore, perché qua non va bene la scena, è fantastico, quando in realtà vi accorgete da solo di questa roba, è buono, andate, buttatevi, perché, insomma, fidatevi, la vostra scrittura vi ringrazierà, e anche la vostra vita, se riuscite ad applicare tutte quelle cose che ci sono, nei vari contenuti che ci sono all'interno, avrete delle migliorie, tra l'altro, faccio notare una cosa molto utile, i corsi sono su Kajabi, che è un'app, e la cosa figa dell'app, scusate se è poco, la cosa figa dell'app, che ci sono tutti i video, tutte le sezioni, eccetera, è che all'interno ci sono i video, ovviamente, sia il testo che il video, ma se voi sentite il video, non è come YouTube che dovete avere il premium, ad app chiusa, andare avanti, scusate se questo è più una pubblicità dell'app, però in generale, una roba figa, tra l'altro, prendete i corsi, sì, studiateveli come viene indicato, ma, riascoltatevi tutto, mille volte, riascoltatevi le cose, io per esempio, una cosa che faccio spesso, quando sono in palestra, è prendermi una vecchia live, di quelle dove vengono analizzati i testi, o quelle del martedì, o quelle del lunedì, che magari qualcuna qui non ho potuto esserci, o io vado a letto molto presto, perché ho la sveglia presto la mattina, quindi di solito riesco a sentire solo, per esempio, l'analisi di un testo, il martedì, quella del testo successivo, me la sento il giorno dopo, completate le live che non siete riusciti a fare, almeno quelle pubbliche, se riuscite ad avere l'accesso all'archivio degli esercizi, delle live, sentitevele tutte, e più volte, perché a me ha aiutato, molto a scendere in profondità, dell'analisi dei testi, ed è una cosa che vi potete fare, anche appunto, nel mio caso, il classico app, mentre faccio palestra, perché? Perché tanto, come vi dicevo, non è come YouTube, ad app chiusa, magari non potete più sentire niente, no, il bello dell'app di Ghiagiobi, che vi rimane in sottofondo, quindi siete sui mezzi pubblici, siete dappertutto, non lo so, vabbè che non dovreste fare altro, mentre avete l'app aperta, però, a me è una cosa che mi ha aiutato, anche solo se devo, non so, prendere il programma della giornata di palestra, che ce l'ho su un altro file, almeno non mi si blocca niente, quindi, avete anche modo, proprio, di studiare in molti momenti, quindi, veramente, è comodo, è utile, buttatevi, a me ha migliorato, e soprattutto, non vedo l'ora di vedere, quali saranno i prossimi miglioramenti, che farò, perché, c'è della roba di mentalità buona, c'è della roba, che vi farà sentire, padroni del vostro destino, e, scusate, ma di questi tempi, non è mica una roba da poco, a me ha aiutato, buona giornata.